Ciao, sono Giulia, ho quasi 24 anni e faccio parte del team di Installation e Commissioning di Matech Industries. In particolare mi occupo di gestire tutto quello che riguarda l'organizzazione della trasferta dei nostri tecnici che vanno ad installare e collaudare gli impianti in tutto il mondo. Sono una persona molto solare, responsabile e determinata e lavoro in Matech da quasi un anno. Ho scelto di lavorare qui dopo un'esperienza lavorativa all'estero e diciamo che conoscevo già l'azienda quindi ho colto subito la possibilità di poter lavorare qui in quanto si tratta di una delle più grandi aziende internazionali leader in questo settore. Durante questo anno ho avuto modo di sviluppare le mie competenze sia sotto un punto di vista professionale che personale soprattutto grazie anche all'aiuto dei miei colleghi ho imparato comunque a gestire progetti mano a mano sempre più complessi. In Matech ho trovato un ambiente lavorativo molto stimolante, collaborativo e dinamico e credo che questo mi abbia agevolato per crescere le mie competenze. Soprattutto con i colleghi del mio dipartimento mi trovo veramente molto bene c'è un rapporto di stima e di supporto reciproco che credo renda il lavoro molto più motivante. Per quanto riguarda i miei sogni professionali includono una crescita continua all'interno dell'azienda vorrei ambire a crescere professionalmente e a contribuire magari anche in prima persona allo sviluppo e al continuo sviluppo e alla crescita dell'azienda e mi piacerebbe farlo anche all'estero.